benvenuti ragazzi sono noblaze e oggi riprendiamo con raiman perchè dobbiamo aiutare la signorina che ha l'occhio da serpente mia no che palla di nuovo eh vabbè quanta roba c'era mamma mia già le porte segrete così all'inizio allora qua non ci arrivo ok piano posso dire che a livello di merda si però l'ho fatto alla grande non è difficile è un rompimento di coglioni ma comunque si va avanti c'è qualcosa da sopra no stronzo nooo mamma mia la provagine eh dio moneta ma che cazzo succede ma che no 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 chi si vuole darmi la mano non me lo consenta eh io lo sapevo la mano per arrivare eh eh ok yes eh ho capito che siete stronzi vabbè vabbè ma io non so come cazzo comportarmi ok ok tipo salto più e me ne vado direttamente è pure meglio ma dai ma dai ma porca puttana ma perchè sti livelli di merda però è tutto bene ancora non sono morto l'ho detto sono morto sono morto l'ho detto l'ho detto e sono morto perchè non ho visto questa semplicemente puttana mmm mmm per cosa ce lo fanno per quanto per no 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 che odio questo gioco che odio perché il gioco è il livello perché mi sto rubendo i coglioni sul livello il gioco era carino smettiamo di fare gli stronzi anche io lo so come cazzo ci sto riuscendo però lo sto facendo sono morto no 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 rilevarmi dal cazzo il primo possibile ciao ti ho detestato fino all'ultimo livello del cazzo adesso è finita mamma mia che parto solo lo primo ma mi basta sinceramente non ho più intenzione di rifare questo livello il mine alla vita che sia chiaro che sia chiaro signorina non si smettiscono mai perfetto dove è andato e basta ok ah i cuori grazie mille e ho capito non me li fai ma sarai stronzo puttaneva la devi smettere però sono nuvola su cui posso poggiare i piedi e ho capito e ho capito però ok yes yes I'm free I'm free mamma mia 75 sempre free erano pochissimi non tanto fatto ciò ho liberato anche il secondo che infatti mi sta dando l'energia direi di cominciare direi di cominciare laghi appetitosi zuppa di drago siamo tornati in messico che pignate ma ci potevo giocare i soldi portati porta eh deve giocare però direi tutto mosquito mosquito oddio mio oddio mio oh no spesso invaders spesso invaders oddio mio ma come lo no no ho fatto l'impossibile vaffanculo e lo schivate tutte eh ciao ciao andai questi sono facili bravo nino bravo continua a vantarti e va bene porco puttana mucca ah ah ok smesso gesù grazie grazie ma è una salsiccia ho i pugni con i porti ho appena sparato uno per aprire una porta fortuna che avevo preso il cuo fortuna che avevo preso il cuo ci sarà qualcosa là sopra ma non mi è andato a saperlo e invece no niente adesso proprio salsiccia da qua cazzo ma con quella tempistica c'è che merito cioppi vabbè vaffanculo non riesco comunque a soltare oh porta segretissima chi è? cazzo ma ce la ho capito ma che cazzo mi siete qualizzati? non lo chico di un acqua 4 4 4 5 5 6 6 6 7 9 9 10 10 il cuore è il muscolo più grande il caffè si è da brown ah stronzo che odio non non mi importa più niente ehm ormai vado avanti per inerzia eh la gran miglia è che non vedo dove cazzo sto andando a caso taglio sei uno ma questo cos'è terreno perché non ci sono andato con un coglione è semplicissimo dio mio che cazzo ho fatto di riesco a stare ahhh ahhh mio dio nooo sono scivolato mamma mia cosa ho fatto eh andato a fare in culo per esempio mio dio che parto 207 il primo il primo va bene sei informissima grazie grazie ma in realtà sto ringraziando ma in ogni caso se vedete più video vediamo sapere se mi piace condividete il video se potete in descrizione la pagina facebook e twitter se non siete ancora iscriviti iscriviti noi ci vediamo nel prossimo video ciao ragazzi